benvenuti e benvenuti a questo nuovo petit episodio dove parlerò di qualche bel dischino mi fa sempre piacere sapere che mi seguite naturalmente come vedete sono ritornato anche su the man in red pubblico questi episodi in contemporanea dappertutto così chi mi segue di là mi segue di là e chi mi segue di qua mi segue di qua andiamo a recensire parlare di qualche bel disco che mi è capitato tra le mani tra quelli che stanno qua dietro in giro per la mia super busy room questa settimana e qui abbiamo un classicone innanzitutto il pezzo è thank you for let me be myself again di slainstorm ma questa è la versione di messio and all the king's man che se non sbaglio è presa dal da quell lp dal primo lp appunto di messio and all the king's man che non è mai andato bene perché era il tempo in cui messio si era separato da james brown e in cui lui fece james brown per vendetta gli bloccò se non sbaglio fece fece in modo che l'album non venisse promosso non so cosa fece cioè si vendicò e il primo album di messio andò male poi per messio le cose andarono meglio dagli album dopo però questo primo album andò abbastanza male e tra le altre cose vediamo un po su disco se lo trovo no non c'è volevo controllare l'album però proprio me lo magari metto la copertina in sovrimpressione è un pezzo meraviglioso una versione meravigliosa con un sincopato alla batteria che è veramente da urlo e poi vabbè suona benissimo quindi anche se è una produzione indipendente house of the fox è un 45 che non costa tantissimo è un 45 di gran qualità a livello proprio sonoro di gran qualità a livello di performance e poi è un album che magari di messio non conoscete tutti perché a parte i collezionisti che hanno diciamo tutta la discografia può essere passato inosservato per via che l'album originale costa un po però c'è il 45 americano che è questo che non suona assolutamente male di nuovo thank you for letting me be myself again ovviamente la versione di slice tone suona benissimo questa suona diversa ma è una versione da paura con cui potete fare un figurone se volete suonare a una bella serata funk lowdown di box scads che è un classico che è stato coverato anche da incognito featuring shaka khan e marco biondi andate a vedervi il video molto carino che c'è su youtube gratuitamente questo è l'originale se non sbaglio l'edizione è su columbia questa che è la columbia 1333343 che è una ristampa costa molto poco ed è un 45 giri che potresti avere perché suona molto bene in alternativa all'album o in aggiunta all'album può essere a me piace sempre avere questi 45 giri perché alle volte esco e suono loro anziché gli album dove devo cercare la traccia metto il 45 giri vedo già il titolo appena lo tiro fuori ci sono solo due facciate quindi ci vuole un attimo lo metti su lo suoni e se è una buona puntina un buon impianto è meglio che suonare su chiavetta a me questo pezzo di box caschi piace molto è un pezzo commerciale non stiamo parlando delle cose solite che recensisco che sono molto più scure e più particolari però è un album molto scusate un singolo molto bello e anche l'album è un album molto interessante vi raccomando l'ascolto di tutti e due non voglio soffermarvi troppo perché questo è un artista di cui si parlano parlano cani e porci è stato diciamo menzionato un po da tutti è uno di quegli artisti major che di cui non parlo perché preferisco parlare delle cose più indipendenti di cui non parla nessuno per dare dalle voci diciamo delle minoranze di artisti o artisti che si sono trovati in minoranza come ad esempio carl hall o blue rhythm in combo per via di cattive distribuzioni o di sfortune dovute appunto all'insuccesso della casa discografica nel mandare fuori un numero diciamo sufficiente di copie a garantire la copertura nazionale eccetera 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 grazie per aver seguito questo episodio io volevo ricordarvi che c'è il super paolo one ancora in vendita in alcuni negozi sia europei che in altri è il mio album primo album doppio e naturalmente ve lo dico perché ci sono ancora delle copie disponibili quindi mi farebbe piacere se voi le compraste nel caso vi piacciono ovviamente i pezzi che io ho messo in quest'album poi sto mandando alle stampe il secondo album e quindi spero presto di darvi delle news sono aperte da questo periodo le prenotazioni del secondo album ci saranno le prime 30 copie numerate autografate solo per voi da me direttamente speditevi ciao 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 ciao